Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mac2000 Oggi ragazzi siamo nella seconda crossbar challenge dopo precisamente quasi un anno Dalla prima che è andata veramente parecchio bene con 36 like ragazzi di ostracane Oggi con me non ci saranno solamente 5 ospiti speciali ma benissimo 1,2,3,4,5,6,6 ospiti speciali quindi incluso me 7 Uno alla volta verranno qua, c'è uno youtuber E altre persone normali Allora partiamo dal tizio con la maglietta verde Chi si chiama Franci6503 credo Salva tutti Poi partiamo con Diego Milito 22 Marino 01 E' andata a prendere la palla E' andata a prendere la palla Poi c'è Giulio Il nome è normale Videogamer romantato che non si chiama più così il mannato italiano Si chiama 1002 E poi l'unico Ragazzi c'è l'uomo Adesso c'è l'uomo 4 occhi in bastardo per vestito di merda Eccolo Avanti Soprannominato il tirascio di mole di Bari Eccolo Allora ragazzi Saranno solamente 4 round Dato che siamo 7 Siamo 6 Inizia Giulio Giulio tu Lui Io Allora c'è la classifica tutta qua Tutti lui si chiamano Numero 1 Vabbè Allora Lui mi ripeto qua Lui 3 e 4 Ok allora inizia Giulio Inizia Giulio Attenzione Inizia Giulio Seferi Alla capazza Allora iniziamo subito Io faccio cagare Lo dico da subito A Bocchiè che non fa cagare qua Io Io Ho parlato di un incantro Quello che cagasse Ciao Anche il cazzo Dai cussa le incantro qua Bastogna Certo Niente Ancora 0 Guarda a me è bello Inizio Passa 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 Bravo Incredibolo Incredibolo Io so peggio di tutti Oh no 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 Non si credo Lui ha detto Sto peggio di Giulio Poi prendere il grosso Ma questo è il taggeraiso Questo fa schifo il po' Il maniare italiano Oh Dal primo Dal primo E' un po' Perché per me No aspetta Devo dire una cosa Allora io Allora nel video Io ho fatto schifo Ho preso solo un palo Qua la prima volta Ho preso un palo Io non ce l'ho Non c'era il primo video Bua Buo Allo nuto Cazzo Allora Allora Ma Giulio Allora No Maria Oh la madonna Bella madonna Perché non mi allargico un minuto Beh La sponda Ma presto Basta Certo Ficchia di puttella Chiara 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 Bella Bella Ha preso pure là Bella Tocca a Fabio Però è io a prima posta C'è faccio schifo No Serato Tu vuoi spare So Sto piaciendo Ma è vero Lì c'è la Web Guarda Guarda Dai Sto Ma io spaglio un video Ma Sto 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 Ehi! Se prendivi la sponda eri un mito No, eri un culo Eri un mito Ehi, la porta non è scorrebo Volevo provare l'esterno ma è venuto di puntina La porta è... A parte di gambe Ma questa è la quattro L'ha preso L'ha preso Io non arriverò mai a tre Sì! Ah, è che volevi arrivare a due Troia Come al solito Ehi! Oggi di questo è il mio Ma questo è di Mike, non è di... Quale cosa ti serve? È un altro giro, non è di... È un altro giro, non è di... Ohhhh 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 Turn down for We Small Smash We Oh, oh my god Oh, bro Oh my god che bastard figlio ma sei a 3 a 3 io non arriverò mai a 3 a 3 a 4 non arriverò let's go Fabio Fabio oh per cosa vado per poco fratello mio dai bro vai mi tiro così stavo dicendo che il video si è successo qualche cosa che non mi ha fatto più continuare ma probabilmente i minuti erano finiti semplicemente erano finiti i minuti erano finiti cioè i megabyte l'hai preso in quel posto l'ho preso là mi dispiace alle donne capita purtroppo poi ci sono donne e donne io non sono donne non si sa male io specifico perchè poi quelle persone pensano a male i capelli seschi chiaramente mi mi imbrude l'occhio mi riescono le lacrime rompi troia comunque stavo dicendo comunque stavo dicendo che purtroppo e il video non ha più registrato perchè i minuti i megabyte erano scaduti erano tutti finiti il video l'abbiamo portato qua l'abbiamo finito di editare più o meno adesso dobbiamo solamente inserire gli effetti speciali si abbiamo toccato tutte le parti il video è venuto pochissimo sei minuti cinque cinque e mezzo una roba del genere calcolando questo pezzo quindi ora dovremo allungarlo di un pochettino massimo massimo dieci minuti per avvenire quindi questo tipo di podio quindi numero uno questo invece è l'amica il video è finito oh andate in pace comunque va beh.. partiscate il video è finito qui spero che il video vi sia piaciuto che septate che datab02 porc scil幾 cosa fai vi hai rotto ah haha spero che abbia suscitato in voi spero che abbia suscitato in voi qualche emozione Non direi per le cose che stiamo facendo Videocane, muovi il video Il video Hai detto muovi il video Muovi il video Hai detto muovi il video Finisce qua ragazzi, lasciate un live Un minchia di like stavo per dire No, io non ho capito live Lasciate una live Lascia il free for me in 2000 Ehm, niente Commentate, iscrivetevi al canale Il canale è di VideoGamer98 Link in discussione Oh, chi sei? Oh, canale Bello, è uscito Dai, è uscito, è super uscito Qua, bello, VideoGamer98 Il mannaro italiano Te lo ho detto, non è il culo VideoGamer98 Che non esiste più Però se iscrivi VideoGamer98 Appare ancora Perdente E niente altro Trovate il canale del mannaro italiano In descrizione E niente altro Perché mi tocco i capelli Stile i primi video Ci sentiamo nel prossimo video Bella raga Ciao